Io sento il nome di Laila perché quando tu entravi nella clandestinità e il rapporto tra i clandestini, anche se eri a Reggio e operavi con gli amici ero anita, ma con i partigiani, cioè quelli che operavano nella clandestinità, alle volte anche persone che non conoscevi, che vedevi per la prima volta, ti conosceva con il nome di Laila, perché il nome di combattente, cioè il sopranome che ti era dato, ti permetteva una maggiore salvezza, in quanto se uno veniva arrestato, tanti si sono salvati in questo modo e quello sotto tortura parlava, dava il nome che tu gli avevi dato, ma che non era il tuo nome. Io avevo sentito il nome di Laila perché io, siccome leggevo molto, avevo letto un libro sugli azzecchi, dove una principessa, una donna, il cui fidanzato o marito era una figura di primo piano, cioè era un principe azzecco, era comandante di una formazione che combatteva contro gli spagnoli, era caduto, era stato ucciso e lei aveva preso il suo posto, per cui era il primo nome di donna combattente, per me era giusto avere quel nome, era una combattente per cui mi ero adeguata col nome a quello che facevo.